Firma con riserva contratto. Ciao a tutti e benvenuti nel mio nuovo video su come firmare un documento con riserva. Sapete che cosa significa firmare un documento con riserva? Molte persone pensano che sia un atto inutile, ma in realtà può essere la cosa più importante che potete fare per proteggervi legalmente. Firmare con riserva significa che accettate il contenuto del documento, ma contestate alcuni aspetti o condizioni specifiche. In altre parole, state dicendo che accettate solo una parte del contenuto del documento e non l'intero contenuto. Questo può essere particolarmente importante in situazioni in cui ci sono termini o condizioni che non accettate o che sono vaghi o ambigui. Firmare con riserva può essere un'arma potente nelle vostre mani, perché vi dà la possibilità di proteggere i vostri diritti in caso di controversie legali future. Ad esempio, se state firmando un contratto di lavoro e non siete d'accordo con una determinata clausola, potete firmare con riserva per contestare quella clausola specifica. In questo modo, se in futuro dovesse sorgere una controversia legale riguardante quella clausola, avete già preso le precauzioni necessarie per proteggervi. Ma come si fa a firmare un documento con riserva? In primo luogo, è importante leggere attentamente il documento per capire quali termini o condizioni potrebbero essere problematiche. Una volta identificati, potete inserire una nota di riserva specifica al fianco di quella parte del documento che desiderate contestare. In conclusione, se siete preoccupati di firmare un documento che contiene termini o condizioni che non accettate completamente, firmare con riserva può essere la soluzione migliore per proteggervi legalmente. Spero che questo video sia stato utile per voi e che ora sappiate come utilizzare questa potente arma per proteggere i vostri diritti. Grazie per aver visto questo video e ci vediamo alla prossima. Grazie per aver guardato questo video, se volete aiutare il canale non dimenticate di iscrivervi, da qui vi auguriamo una buona giornata. Grazie per aver guardato questo video.